Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart in studio Agnese Fedeli. Iniziamo dall'autostrada in A1 con dei attratti per traffico verso nord tra Carenzano e Pio 1 varianti, in carreggiato opposto e rallentamenti per perdita di carico tra Badia e Aglio. In A11 per Mangolo rallentamenti per traffico verso Pisa tra Chiesina e Lucca Est. In A12 coda per traffico alla barriera di Rosignano in direzione Rosignano. E arriviamo in Fipili per incidente, 2 km di coda nella carreggiata in direzione mare tra Bbio SCC Fipili della Nazione Pisa e Lavoria. Prima di salutarci per il traffico ferroviario ricordiamo che è sospesa oggi e domani, 21 e 22 settembre, la circolazione sulla Faentina tra Marradi e Faenza. Buon versetto in Toscana Info, servizio in collaborazione con la regione Toscana, città metropolitana di Firenze e comune di Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio. Grazie a tutti.